Una traduzione non buona, così Papa Francesco risponde in un'intervista a una domanda sul testo del Padre Nostro, la preghiera più importante della liturgia cristiana insegnata da Gesù Cristo stesso ai suoi discepoli. Secondo il Papa, infatti, il passaggio che recita non ci indurre in tentazione andrebbe interpretato diversamente. In Francia hanno cambiato traduzione, spiega Francesco, sono io a cadere in tentazione, non è Dio che mi ci butta. Un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito, quello che ti induce in tentazione semmai è Satana, conclude il Pontefice. Il Papa cita non a caso proprio la Francia, dove da domenica scorsa il testo della preghiera è stato ritradotto in «Non lasciarci entrare in tentazione», ritenuto appunto più corretto dai teologi d'Oltrampe. Ad appoggiare la scelta di Bergoglio è tra gli altri Monsignor Bruno Forte, teologo e membro del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. «È questo il significato autentico della preghiera», spiega l'Arcivescovo di Chieti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.